. Giulia De Lellis finisce sul Corriere della Sera, è polemica sui sordi. Grazie. 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 La sua opinione davanti a milioni di persone in totale libertà. . Le varie associazioni proseguono, lanciando un appello al programma Mediaset, crediamo necessario che il GF debba inequivocabilmente prendere le distanze da tali affermazioni. Giulia e GF, la protesta del mondo dei sordi, come reagirà la De Lellis?. Il pericolo, secondo gli enti, è dunque quello di far giungere immagini stereotipate che benché frutto dellignoranza di chi le pronuncia, in ragione del mezzo che è stato messo loro a disposizione, diventano ostacolo alla diffusione di una cultura dellinclusione di cui la nostra società ha tanto bisogno. Ricordiamo che le frasi a cui si riferisce lo scritto sono quelle di un discorso fatto da Giulia al GF VIP, il mio bidello si era innamorato di un insegnante di sostegno, anche lei sordomuta. . E scoppiato un casino perché lui era già sposato, sempre con una donna sordomuta e virgola di solito i bidelli sono tutti handicappati. Come risponderanno il GF VIP e la fidanzata di Damante. .